Tonali ha una carriera di fronte, veniva a tutelarlo, ha lui il Brescia, il Brescia è la sua casa e lui è un figlio del Brescia. Era la sua stagione, la stagione di Tonali? Speriamo che sia quella del Brescia. Ci servono 11 giocatori, non uno, se giochiamo solo Tonali siamo a foto e giochiamo tutti purtroppo. E Tonali, un giocatore sta formando ancora. Non fategli montare troppo la testa ragazzi, se no io poi non lo gestisco più. Per me è in un apprezzo, infatti non ho mai avuto un'offerta, non l'ho mai trattata, come tanti altri giocatori. Ho dei giocatori altrettanto bravi in Brescia, che voi non seguite molto la Serie B, io purtroppo l'ho dovuta seguire per due anni. E vi devo dire che c'è una squadra veramente interessante, sono molto più tuccioso di una squadra, nell'amore e nella mentalità che abbiamo noi in squadra. Presidente, Balotelli è un sogno e basta o si può tramutare in qualcosa di concreto? Sicuramente io sogno le donne la notte non è mai trattata, però Balotelli è un giocatore che a me se ne piace tutto tanto. Ho sempre detto, è sempre stato molto bravo a mettere il pino di salto sui difetti che hai preso. È un ragazzo che è originario di Brescia, non ci ha mai giocato a Brescia. Forse perché costa anche troppo e giustamente non ce lo possiamo permettere.